È ovviamente un motivo di grande soddisfazione, soprattutto perché è arrivata, come dicevi tu, in un momento completamente, per me, inaspettato. Sono molto felice di poter avere la possibilità di lavorare qui in questi giorni. So perfettamente che devo assolutamente condividere questa mia gioia e questa esperienza con i compagni del mio club e con il mio club stesso. Credo che senza i risultati ottenuti con il Torino in questo anno e poco, la mia presenza qui sarebbe stata veramente impossibile.